voi pensate che quando riconoscevo nella Lazio e io facevo un portiere ridicavo spesso questa cosa qua perché io ho ancora ancorato al fatto che secondo me la marcatura uomo è la cosa migliore invece la marcatura uomo è una delle cose secondo me non a favore della squadra della tua squadra perché per esempio la marcatura un uomo dentro l'area ti consente i blocchi poi adesso anche quando metti tu metti l'uomo sul palo che ci sono due uomini qua che fanno lo scambio come fa lo scambio l'uomo sul palo esce e esce se gli da fuorigioco cioè proprio una cosa di una semplicità infinita cioè basta preparare queste cose durante la settimana cioè ci vogliono 5 minuti non ci vuole mica tanto